Giorno 674. Ieri la battaglia più intensa è stata combattuta nei cieli, in quanto gli ucraini erano impegnati a respingere la più grande ondata di missili e droni della guerra. Il portavoce dell'aviazione ucraina ha riportato di non aver mai visto così tanti obiettivi contemporaneamente sugli schermi. L'approccio russo era quello di sovverchiare le difese ucraine e confondere gli operatori dei sistemi contraerei. Decidere dove e quando intercettare è stato molto complicato. Ci sono diversi strati di difese aeree e utilizzare la prima linea per affrontare la prima ondata di attacchi avrebbe lasciato tutte le aree prefrontali esposte alla seconda ondata. Ecco perché gli operatori devono prima osservare la traiettoria del missile e cercare di scoprire dove è diretto. Ad alcuni è quindi stato permesso di passare perché li intercettassero i sistemi nelle retrovie. Le forze russe conoscono questo approccio e hanno ideato traiettorie molto complesse. Alcune volte i missili tornano persino indietro per colpire le città alle spalle. Nell'attacco di ieri i russi han persino violato lo spazio aereo NATO attraversando il confine polacco per poi colpire l'Ucraina. Gli ufficiali polacchi hanno confermato l'identificazione di un missile russo nei cieli ma hanno deciso di non intervenire. Infine alcuni missili sono capaci di lanciare contro misure termiche. Per ridurre le capacità difensive ucraine la prima ondata includeva molti droni per far esaurire le contraeree. I droni sono stati lanciati dalle regioni di Bryansk e Rostov e si sono allargati appena superata la linea di contatto. Poco dopo aver lanciato 36 Shahed i russi han lanciato 90 missili tra KH-55 e altre tipologie dalla base del Caspio. 14 da Belgoro de Crimea, 8 KH-22 e 5 Dagger da nord, oltre a 4 anti-radar e un KH-59 da sud. In totale gli oggetti in volo erano 158, 122 missili e 36 droni. Lo stato maggior ucraino ha riportato che 87 missili e 27 droni sono stati abbattuti, un successo del 73%. Sfortunatamente significa che comunque 33 missili e 9 droni sono riusciti a colpire i propri bersagli nelle più grandi città ucraine. Kiev, Arkiv, Dnipro, Zaporizia, Odessa e Livl. A Kiev, secondo fonti russe, sarebbero stati distrutti 5 depositi di, si presume, equipaggiamento militare. Fonti ucraine riportano invece che a soffrire l'attacco siano state zone civili, compresi edifici abitati, uffici e le periferie. Sembra che i russi abbiano provato a colpire la fabbrica di razzi, colpendo invece la stazione della metropolitana, rendendo la linea inservibile. A Dnipro è stato colpito un centro commerciale nel centro città. Un drone e un razzo ha colpito un ospedale ginecologico. Fortunatamente tutte le donne neonati erano nel bunker, sopravvivendo quindi all'attacco. Fonti russe riportano che i depositi dentro il centro commerciale erano usati per scopi militari e che gli altri bersagli fossero invece aree di concentrazione di forze. Fonti ucraine riportano che, oltre a colpire le infrastrutture del porto, un missile ha colpito un edificio residenziale, mentre un altro è caduto vicino a una scuola odessa. Mentre a Zaporizia sono state colpite maggiormente le aree residenziali nelle periferie. A Archiv sono state colpite le zone industriali, depositi e depositi dei tram. A giudicare dalla mancanza di filmati dalla regione, gli attacchi russi qui sono stati quelli con più successo. Essendo la città a soli 25 km dal confine non sorprende, in quanto hanno avuto molto poco tempo per reagire. In più, i russi stanno usando apposta missili balistici contro questa regione. Il portavoce dell'aviazione ucraina ha dichiarato che i missili balistici possono essere intercettati solo da specifici sistemi contraerei, come i Patriot, non presenti in gran numero in Ucraina e quindi concentrati intorno alle zone più importanti. L'attacco missilistico non è stata una sorpresa in quanto l'intelligence ucraina continuava a portare l'attenzione sul fatto che i russi stessero accumulando missili per l'inverno. Infatti, due giorni fa, ufficiali ucraini hanno avvertito al pubblico che i russi avrebbero cercato di rovinare le festività degli ultimi tre giorni dell'anno, come hanno fatto l'anno scorso. Lo scopo di questa campagna simbolica è triplice. Prima di tutto, il pubblico russo reagisce positivamente a massive ondate missilistiche, in quanto danno un senso di superiorità, migliorando il sentimento generale in un periodo vicino al discorso presidenziale per l'anno nuovo. Secondo, i russi stanno cercando di far passare inosservate le brutte notizie. Per esempio, ieri è stato rivelato che le perdite subite dai russi durante l'esplosione della nave da guerra sono ancora maggiori di quelle stimate dagli ucraini. Sarebbero infatti morti più di 100 soldati, compresi i coscritti, che non avrebbero neanche dovuto essere lì. Notizie come queste avrebbero causato agitazione e un'enorme ondata di critiche, ma nessuna fonte russa ne ha anche solo fatto menzione. Infine, attaccando durante le festività, i russi stanno cercando di causare malcontento nel pubblico ucraino, il che dovrebbe in teoria spingere Zelensky ad accettare i termini russi. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, ci si devono quindi aspettare altri attacchi. Fortunatamente gli ucraini si aspettavano questa sequenza di eventi e si sono concentrati negli ultimi mesi a migliorare le proprie difese. Questo ha portato a una mancanza di blackout e sta spingendo le nazioni occidentali a dare più sistemi contro aeree agli ucraini, specie considerando che un missile russo è ancora una volta stato identificato nei cieli NATO. È al momento in corso un sostanziale sconto sulla collezione delle bandiere doppie. Un acquisto ideale per mostrare solidarietà alla situazione ucraina e supportare il nostro lavoro. Se siete interessati, il link si trova in descrizione. Come al solito, grazie per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video.